Mercoledì 2 dicembre, Santa Viviana, è il 337 giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 29 al termine. Il sole sorge alle 7.31 e tramonta alle 16.29. La luna si leva alle 18.05 e tramonta alle 9.24. Ordinata la ricostruzione del ponte di Rialto. Esso dovrà essere costruito in legno ma con le botteghe su uso. Viene pure emessa un'ordinanza con la quale non si possono pignorare né i bovini né gli attrezzi agricoli. Le previsioni per domani. In prevalenza molto nuvoloso fino a parte della mattinata. In seguito nuvolosità meno compatta con comparsa di qualche schierita. Temperature minime in aumento salvo sulla pianura meridionale dove risulteranno stazionari o in diminuzione. Massime senza notevoli variazioni o in locale aumento in pianura.